un saluto da savio programmatore esp8266 senza saldature come vedete è solo appoggiato si leva senza saldature con la usb il tasto della programmazione per il reset basta solo appoggiare l'esp sopra lo si appoggia lo si preme e si programma senza saldare una super freschezza lo sta programmando via web quindi programmatore senza saldatura va benissimo sto programmando un'espa con il film che trasmoda ecco qui si sta avviando tutto a posto grazie grazie grazie